problemi di cellulite e flaccidità il grasso ha trasformato il vostro corpo vorreste migliorare il vostro aspetto fisico senza ricorrere alla chirurgia o alla palestra e senza spendere una fortuna in costosi trattamenti ecco la soluzione cellu 5000 il sistema che ha rivoluzionato il mondo dei trattamenti estetici otterrete risultati incredibili eliminerete la cellulite comodamente da casa in poco tempo noterete la differenza perderete centimetri rassoderete i glutei e tonificherete la pelle cellu 5000 è in grado di garantire risultati sorprendenti perché sfrutta la stessa tecnologia utilizzata nei centri estetici e nelle spa vi sbarazzerete della cellulite della pelle flaccida e dei cuscinetti di grasso con un sistema professionale restando comodamente a casa vostra basta applicare lo speciale olio idratante e massaggiare delicatamente la pelle flaccida e a buccia d'arancia fino a renderla liscia e vellutata noterete un miglioramento già dopo la prima applicazione resterete sbalorditi usandolo regolarmente il vostro corpo diventerà strepitoso vi sbarazzerete in fretta dei cuscinetti di grasso tonificherete la pelle e la cellulite scomparirà cellu 5000 funziona con un doppio sistema massaggia la pelle ed applica un'aspirazione per creare un vuoto che faciliti lo scioglimento delle cellule di grasso accumulato che causano la cellulite inoltre attiva il sistema linfatico facilitando l'espulsione delle tossine cellu 5000 utilizza la stessa tecnologia dei centri estetici basata sui principi della vacuum terapia oggi potete usufruire di un sistema professionale ad un prezzo nettamente inferiore restando comodamente a casa vostra otterrete risultati sorprendenti cellu 5000 ha tre livelli di potenza che potete adattare alle vostre esigenze aspirazione leggera media e forte potete usarlo sulle gambe sui glutei sull'addome e sulle cosce tutto quello che dovete fare applicare l'olio sul punto desiderato e massaggiare dolcemente l'area che volete trattare noterete quanto sia efficace in ogni punto e quanto tonifichi la pelle in poco tempo vedrete scomparire quell'orribile cellulite i risultati saranno a dir poco incredibili potrete di nuovo indossare abiti sexy e attillati che disastro grasso cellulite e non c'è modo di sbarazzarsene l'attività fisica vi lascia completamente distrutti e senza fiato siete stanchi di provare diete tristi e noiose o spendere una fortuna in costosi trattamenti estetici la soluzione è cellu 5000 potete usarlo comodamente a casa vostra e dal momento che si tratta di un apparecchio portatile potete averlo sempre con voi è molto semplice da usare tutto quello che dovete fare è applicare lo speciale olio idratante sulle cosce e poi massaggiare delicatamente in poco tempo la vostra cellulite scomparirà e la vostra pelle sarà più liscia guardate che risultati potete ottenere con questo sistema eliminerete la cellulite e la vostra pelle sarà più liscia e vellutata potrete indossare di nuovo quella minigonna che non mettete da tempo cellu 5000 è un apparecchio efficace nel ridurre il grasso accumulato utilizzatelo una volta al giorno applicando un leggero massaggio e otterrete risultati sorprendenti perderete più di una taglia cellu 5000 funziona con un doppio sistema massaggia la pelle ed applica un'aspirazione per creare un vuoto che faciliti lo scioglimento delle cellule di grasso accumulato che causano la cellulite e dal momento che agisce sulla circolazione attiva anche il sistema linfatico e facilita l'eliminazione di grasso e tossine noterete un miglioramento già dopo il primo trattamento la vostra cellulite diminuirà i vostri glutei saranno più sodi la vostra pelle più tonica i cuscinetti di grasso scompariranno e perderete ben una taglia cellu 5000 lavora come gli apparecchi professionali usati nelle migliori spa è in grado di migliorare la pelle mediante la vacuum terapia è molto semplice da usare tutto quello che dovete fare è applicare lo speciale olio idratante sul punto da trattare e poi massaggiare delicatamente la pelle flaccida e a buccia d'arancia fino a renderla liscia e vellutata otterrete risultati incredibili in poco tempo eliminerete la cellulite rassoderete i glutei tonificherete la pelle e perderete ben una taglia sarete molto più sexy dite addio alla cellulite ridisegnate il vostro corpo sbarazzatevi dei centimetri di troppo cellu 5000 è il primo apparecchio portatile che sfrutta i principi della vacuum terapia per regalarvi un corpo più sexy più snello e più modellato vedrete come l'azione aspirante sulla pelle gradualmente rimuoverà il grasso riducendo quei cuscinetti attaccati alla pelle che il corpo elimina naturalmente sbarazzatevi della cellulite in modo semplice ed efficace elimina la cellulite in tempi record ed è molto semplice da usare tutto quello che dovete fare è applicare lo speciale olio idratante sul punto da trattare e poi massaggiare la parte gradualmente vedrete il grasso scomparire otterrete risultati sbalorditivi in pochissimo tempo studi scientifici confermano e dimostrano l'efficacia di questo sistema cellu 5000 funziona con un doppio sistema massaggia la pelle ed applica un'aspirazione per creare un vuoto che faciliti lo scioglimento delle cellule di grasso accumulato che causano la cellulite inoltre attiva il sistema linfatico facilitando l'espulsione delle tossine al costo di qualche seduta di vacuum terapia in un centro specializzato ora potete avere cell 5000 l'apparecchio in grado di eliminare la cellulite e di rimodellare il vostro corpo tutto senza dovervi muovere da casa potete usarlo su gambe glutei addome e cosce con un leggero massaggio quotidiano vi sbarazzerete di quell'orribile cellulite un problema molto comune tra le donne di ogni età con cellu 5000 eliminerete la cellulite in tempi record i risultati saranno spettacolari perderete una taglia rassoderete la pelle vi sbarazzerete della cellulite e rimodellerete il corpo con un metodo davvero efficace e soprattutto restando comodamente a casa vostra non perdete l'opportunità di rimodellare il vostro corpo velocemente con cellu 5000 cosa state aspettando chiamate subito ed acquistate il vostro cellu 5000 questo fantastico apparecchio sarà vostro all'incredibile prezzo che vedete sullo schermo non perdete questa opportunità e in fretta noterete la differenza rassoderete la pancia sceglierete i cuscinetti di grasso eliminerete la cellulite e renderete più liscia la vostra pelle è molto semplice tutto quello che dovete fare è chiamare ed ordinare il vostro cellu 5000 adesso cosa state aspettando ora non dovete più spendere 2000 euro per un trattamento estetico né mille né tantomeno 500 o 100 abbiamo progettato un sistema che potete usare a casa rischio zero con la tecnologia di un apparecchio professionale ma non è tutto chiamate subito e riceverete una seconda confezione del nostro speciale olio idratante completamente gratis usato con cellu 5000 vi aiuterà a ridurre la cellulite e la pelle flaccida ma non è finita se approfitterete di questa offerta lancio vi regaleremo anche questa pratica custodia per portare cellu 5000 sempre con voi non esitate i nostri operatori vi stanno aspettando chiamate subito e approfittate di questa offerta esclusiva non ve ne pentirete avete problemi di cellulite e flaccidità il grasso ha trasformato il vostro corpo vorreste migliorare il vostro aspetto fisico senza ricorrere alla chirurgia o alla palestra e senza spendere una fortuna in costosi trattamenti ecco la soluzione cellu 5000 il sistema che ha rivoluzionato il mondo dei trattamenti estetici otterrete risultati incredibili eliminerete la cellulite comodamente da casa in poco tempo noterete la differenza perderete centimetri rassoderete i glutei e tonificherete la pelle cellu 5000 è in grado di garantire risultati sorprendenti perché sfrutta la stessa tecnologia utilizzata nei centri estetici e nelle spa vi sbarazzerete della cellulite della pelle flaccida e dei cuscinetti di grasso con un sistema professionale restando comodamente a casa vostra basta applicare lo speciale olio idratante e massaggiare delicatamente la pelle flaccida e a buccia d'arancia fino a renderla liscia e vellutata noterete un miglioramento già dopo la prima applicazione resterete sbalorditi usandolo regolarmente il vostro corpo diventerà strepitoso vi sbarazzerete in fretta dei cuscinetti di grasso tonificherete la pelle e la cellulite scomparirà cellu 5000 funziona con un doppio sistema massaggia la pelle ed applica un'aspirazione per creare un vuoto che faciliti lo scioglimento delle cellule di grasso accumulato che causano la cellulite inoltre attiva il sistema linfatico facilitando l'espulsione delle tossine cellu 5000 utilizza la stessa tecnologia dei centri estetici basata sui principi della vacuum terapia oggi potete usufruire di un sistema professionale ad un prezzo nettamente inferiore restando comodamente a casa vostra otterrete risultati sorprendenti cellu 5000 ha tre livelli di potenza che potete adattare alle vostre esigenze aspirazione leggera media e forte potete usarlo sulle gambe sui glutei sull'addome e sulle cosce tutto quello che dovete fare applicare l'olio sul punto desiderato e massaggiare dolcemente l'area che volete trattare noterete quanto sia efficace in ogni punto e quanto tonifichi la pelle in poco tempo vedrete scomparire quell'orribile cellulite i risultati saranno a dir poco incredibili potrete di nuovo indossare abiti sexy e attillati che disastro grasso cellulite e non c'è modo di sbarazzarsene l'attività fisica vi lascia completamente distrutti e senza fiato siete stanchi di provare diete tristi e noiose o spendere una fortuna in costosi trattamenti estetici la soluzione è cellu 5000 potete usarlo comodamente a casa vostra e dal momento che si tratta di un apparecchio portatile potete averlo sempre con voi è molto semplice da usare tutto quello che dovete fare è applicare lo speciale olio idratante sulle cosce e poi massaggiare delicatamente in poco tempo la vostra cellulite scomparirà e la vostra pelle sarà più liscia guardate che risultati potete ottenere con questo sistema eliminerete la cellulite e la vostra pelle sarà più liscia e vellutata potrete indossare di nuovo quella minigonna che non mettete da tempo cellu 5000 è un apparecchio efficace nel ridurre il grasso accumulato utilizzatelo una volta al giorno applicando un leggero massaggio e otterrete risultati sorprendenti perderete più di una taglia cellu 5000 funziona con un doppio sistema massaggia la pelle ed applica un'aspirazione per creare un vuoto che faciliti lo scioglimento delle cellule di grasso accumulato che causano la cellulite e dal momento che agisce sulla circolazione attiva anche il sistema linfatico e facilita l'eliminazione di grasso e tossine noterete un miglioramento già dopo il primo trattamento la vostra cellulite diminuirà i vostri glutei saranno più sodi la vostra pelle più tonica i cuscinetti di grasso scompariranno e perderete ben una taglia cellu 5000 lavora come gli apparecchi professionali usati nelle migliori spa è in grado di migliorare la pelle mediante la vacuum terapia è molto semplice da usare tutto quello che dovete fare è applicare lo speciale olio idratante sul punto da trattare e poi massaggiare delicatamente la pelle flaccida e a buccia d'arancia fino a renderla liscia e vellutata otterrete risultati incredibili in poco tempo eliminerete la cellulite rassoderete i glutei tonificherete la pelle e perderete ben una taglia sarete molto più sexy dite addio alla cellulite ridisegnate il vostro corpo sbarazzatevi dei centimetri di troppo cellu 5000 è il primo apparecchio portatile che sfrutta i principi della vacuum terapia per regalarvi un corpo più sexy più snello e più modellato vedrete come l'azione aspirante sulla pelle gradualmente rimuoverà il grasso riducendo quei cuscinetti attaccati alla pelle che il corpo elimina naturalmente sbarazzatevi della cellulite in modo semplice ed efficace elimina la cellulite in tempi record ed è molto semplice da usare tutto quello che dovete fare è applicare lo speciale olio idratante sul punto da trattare e poi massaggiare la parte gradualmente vedrete il grasso scomparire otterrete risultati sbalorditivi in pochissimo tempo studi scientifici confermano e dimostrano l'efficacia di questo sistema cellu 5000 funziona con un doppio sistema massaggia la pelle ed applica un'aspirazione per creare un vuoto che faciliti lo scioglimento delle cellule di grasso accumulato che causano la cellulite inoltre attiva il sistema linfatico facilitando l'espulsione delle tossine al costo di qualche seduta di vacuum terapia in un centro specializzato ora potete avere cell 5000 l'apparecchio in grado di eliminare la cellulite e di rimodellare il vostro corpo tutto senza dovervi muovere da casa potete usarlo su gambe glutei addome e cosce con un leggero massaggio quotidiano vi sbarazzerete di quell'orribile cellulite un problema molto comune tra le donne di ogni età con cellu 5000 eliminerete la cellulite in tempi record i risultati saranno spettacolari perderete una taglia rassoderete la pelle vi sbarazzerete della cellulite e rimodellerete il corpo con un metodo davvero efficace e soprattutto restando comodamente a casa vostra non perdete l'opportunità di rimodellare il vostro corpo velocemente con cellu 5000 cosa state aspettando chiamate subito ed acquistate il vostro cellu 5000 questo fantastico apparecchio sarà vostro all'incredibile prezzo che vedete sullo schermo non perdete questa opportunità e in fretta noterete la differenza rassoderete la pancia scioglierete i cuscinetti di grasso eliminerete la cellulite e renderete più liscia la vostra pelle è molto semplice tutto quello che dovete fare è chiamare ed ordinare il vostro cellu 5000 adesso cosa state aspettando ora non dovete più spendere 2000 euro per un trattamento estetico né 1000 né tantomeno 500 o 100 abbiamo progettato un sistema che potete usare a casa rischio zero con la tecnologia di un apparecchio professionale ma non è tutto chiamate subito e riceverete una seconda confezione del nostro speciale olio idratante completamente gratis usato con cellu 5000 vi aiuterà a ridurre la cellulite e la pelle flaccida ma non è finita se approfitterete di questa offerta lancio vi regaleremo anche questa pratica custodia per portare cellu 5000 sempre con voi non esitate i nostri operatori vi stanno aspettando chiamate subito e approfittate di questa offerta esclusiva non ve ne pentirete